musica ecco andiamo a vedere più da vicino chi ci ha permesso la realizzazione di questo Joomla Festival come sponsor ufficiale dell'evento chi siete e cosa offrite come vostro prodotto salve a tutti chi ci conosce già sul mondo Joomla noi offriamo servizi specializzati su questo CMS abbiamo servizi che vanno dall'hosting condiviso a servizi più particolari dedicati come il nostro cloud virtual hosting e come azienda lavoriamo molto su questo tipo di CMS perché dal primo momento ci abbiamo creduto e ci spingiamo tutti i giorni e cerchiamo di migliorare anche i nostri servizi per renderlo più sicuro e più veloce vogliamo essere un punto di riferimento per i nostri clienti i nostri rivenditori e dare quindi un supporto anche che va al di là del semplice servizio di hosting sono Fabio Zinesi di Infortec siamo qui perché presentiamo il software per la gestione della dematerializzazione dei registri vitivinicoli la nuova normativa prevista dal MIPAF prevede che dal primo gennaio 2017 tutti i produttori di vino debbano inviare in via telematica una serie di informazioni che fino ad oggi erano gestite tramite documenti cartacei quello che ha fatto Infortec è stato sviluppare un prodotto per semplificare questo adeguamento normativo alle piccole cantine perché quelle grandi ormai sono già strutturate e sono praticamente autonome quelle piccole invece spesso sono realtà dove non c'è informatica e questo è il primo vero passo verso l'informatizzazione dell'azienda vitivinicola il nostro obiettivo è quello di aiutarle e rendere questo passaggio molto più semplice e molto più efficace trasformandolo da un costo per gestire un obbligo a un investimento per l'informatizzazione dell'intera struttura Io sono Carlo Carradori di Web Performance e mi occupo di ottimizzazione dei siti per i motori di ricerca quindi SEO e invece come agenzia offriamo tutta una serie di servizi di ottimizzazione e di campagne per avere maggiore visibilità sia sul motore di ricerca quindi con annunci di testo, AdWords sia sulla rete display inoltre abbiamo un network di siti sui quali offriamo servizi per editori di cui vi parla la mia collega Io sono Stefania Bertoni mi occupo appunto della gestione del network dei nostri editori e ai nostri editori proponiamo diversi formati banner display per la monetizzazione del loro traffico così appunto da permettergli di guadagnare qualcosina in più Io sono Manuel Benedetti dell'azienda CRM Village siamo i principali sponsor per quanto riguarda l'applicazione WT e CRM WT e CRM è una soluzione CRM direttamente sviluppata da noi distribuita sul mercato abbiamo dai più grossi clienti fino ad arrivare alle medie e piccole imprese è una soluzione che proponiamo open source di conseguenza mi farebbe molto piacere magari poter organizzare una demo di presentazione capire se può essere un'applicazione che fa il caso vostro e valutare insieme se possa essere appunto l'applicazione che soddisfa le vostre esigenze Ciao, io sono Simone Zanotti sono cofondatore e amministratore delegato di Monza Makers noi ci occupiamo di stampa 3D siamo un service offriamo servizi di modellazione e appunto stampa serviamo le aziende nelle varie fasi del processo produttivo le seguiamo appunto nella modellazione e nella realizzazione del prototipo che poi andrà usato per le varie produzioni adesso qua stiamo vedendo una stampa di un prodotto da una stampante a tecnologia FDM qua invece abbiamo altre tecnologie che sono una multi jet printing che stampa componenti in resina e invece qua abbiamo una color jet printing che stampa invece in gesso resinato color jet printing che abbiamo anche usato per realizzare un quadro in 3D del Caravaggio con l'associazione Cechi di Monza che abbiamo esposto in Villa Reale con il Caravaggio vero noi siamo la Coretec siamo una società di Milano che ha come clienti primari rivenditori, aziende che fanno sviluppo web e comunque che lavorano nell'ambito IT cosa offrite? offriamo hosting e server virtuali quindi siamo al Joomla Festival proprio perché le nostre offerte l'offerta Rocket Web che trovate qui alla mia destra con il banner è rivolta a quei clienti che desiderano avere un hosting di qualità che possa dare la possibilità al loro progetto di crescere nel tempo senza dover necessariamente cambiare piano o addirittura provider per quei clienti invece che hanno esigenze sempre in ambito Joomla progetti molto più importanti magari con l'integrazione di e-commerce come virtual mart eccetera offriamo un altro prodotto che si chiama Stellar che si differenzia per performance garantite e scalabili nel tempo perché è importante fare il virtual commerce? Allora un e-commerce oggi è quello che la gente si aspetta anche in Italia ormai è normale cercare in rete i prodotti e i servizi di cui si ha bisogno e infatti ci sono per esempio gli avvocati o anche i commerciati che si stanno aprendo a questa possibilità a vendere i loro servizi in rete poi è anche vero che il commercio elettronico di beni in Italia ormai è sfondato la gente compra su internet quindi è importante fare e-commerce perché è questo che la gente si aspetta oggi noi produciamo una pasta fatta solo con ceci, fagioli e piselli quindi siamo i primi produttori in Italia a farla a livello artigianale usando solo basse temperature e quindi è una sorta di primo che però è in tutto e per tutto un secondo piatto quindi ha la modalità e la facilità di consumo di una pasta ma si mangiano tante proteine vegetali e fibre a farla a livello artigianale a farla a livello artigianale